Il mini trampolino è un modo eccellente per rimanere in forma a casa. Tuttavia, i vecchi modelli a molle sono ostici per le articolazioni, troppo rumorosi per i vicini e richiedono troppo spazio. Questo li rende difficili da riporre. C'è bisogno di Starflex, il trampolino è elastico, pieghevole, silenzioso e che non stressa le tue articolazioni. 10 minuti di Starflex equivalgono a 30 minuti di jogging. Può essere riposto rapidamente in uno sgabuzzino o sotto il letto. Quindi rimani in forma senza stress, senza rumore e ad un prezzo più basso.